Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale e questa è una nuova puntata di chiacchiere nerd al letto. Questo per me è sicuramente un periodo di forti ansie e frustrazioni, quindi quale momento se non questo per registrare un chiacchiere nerd al letto che sicuramente tra tutti i video che sono solito, le rubriche che sono solito portare sul canale è quella che davvero mi permette di rilassarmi, di non fare discorsi impostatissimi, ma semplicemente di chiacchierare a ruota libera di tutte le cose che noi amiamo. Quindi il format lo conoscete già, ci beviamo insieme una tazza di tè, prendete da mangiare qualsiasi altra cosa e ci sono cose di cui parlare, libri, film, serie tv, pacchi da aprire, ben due. Ed eccoli qui e inizieremo come sempre proprio dagli unboxing. Procuratevi anche voi una bella tazza di tè che fa sempre bene, qualcosa da sgranocchiare come vi ho detto e cominciamo a questa chiacchierare nerd al letto. Proprio questa mattina mi sono arrivati questi due pacchi che adesso andiamo ad aprire insieme. Partiamo da questo che è più semplice da aprire e poi passiamo alla scatola sotto. Allora andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questo pacco che credo sia da parte di Sterling Kaffer ma potrei tranquillamente sbagliare, essere in errore. Ma andiamo a vedere insieme. Sì, pacco da Sperling Kaffer. All'interno ci sono due nuove uscite, una più recente dell'altra. La prima, quella più recente, è My Policeman di Bennett Roberts. Questo è un libro che io desideravo ormai leggere da tantissimo tempo. Era ancora inedito in Italia. E' stato annunciato qualche tempo fa il film con protagonista Harry Styles che, se non lo sapete, è una delle mie più grandi icone. E quindi ci tenevo a leggerlo ovviamente proprio in previsione del film ma era inedito ed ero sicuro che prima o poi sarebbe stato pubblicato proprio in vista del film. E la Sperling Kaffer appunto si è uscita recentemente con questa pubblicazione che sono molto contento di aver ricevuto. Non vedo l'ora di leggerlo, sarà sicuramente una delle mie prossime letture. So molto poco in realtà di My Policeman. E' uno di quei libri che volevo leggere comunque quasi a scatola chiusa praticamente. La storia dovrebbe girare intorno a Patrick e Marion. Due persone estremamente diverse ma che hanno in comune qualcosa, o meglio qualcuno. Ovvero Tom, che per i due rappresenta un po' l'oggetto del desiderio. E poi un giorno Tom verrà chiamato per prestare servizio come militare poi nelle forze armate. E da qui inizia la storia. Da una parte raccontata da Patrick e dall'altra invece da Marion. Sono molto curioso, devo essere sincero, non vedo l'ora di leggerlo. E' un libro che sicuramente ha diviso tantissimo dalle recensioni che ho letto online. Però non vedo l'ora di farmi una mia opinione, ovviamente. Si tratta di una copertina rigida da parte di Sperlian Kaffer, quindi staremo a vedere. La seconda uscita invece è sicuramente molto molto più nota. Si tratta del nuovo romanzo di Stephen King, ovvero Billy Summers. Un'edizione, tra l'altro, meravigliosa che mi era capitato di vedere in libreria il giorno stesso che uscì, il romanzo. Non vedo l'ora di leggerlo, tra l'altro. Inizialmente ero piuttosto scettico perché non è il tipo di King che generalmente io amo. Mi piace leggere tutto quello che King propone. Però c'è una tipologia di romanzi scritti da King che, devo dire, prediligo. E sicuramente Billy Summers che va a raccontare un po' la psicologia dietro Billy Summers. Appunto questo serial killer non è forse tra i miei preferiti. Anche se l'argomento serial killer è ovviamente per me fonte di estremo interesse. In senso positivo, se è un senso positivo vogliamo trovarlo. Comunque sta di fatto che anche questo sicuramente è un libro che ho visto dividere molto. E anche in questo caso sono molto curioso di farmi una mia opinione, come sempre, con i romanzi di Stephen King. E anche questa sarà sicuramente una mia prossima lettura, visto che sto cercando di tenere costantemente il passo, anno dopo anno, con tutte le uscite di Stephen King. Tra l'altro questa è la seconda, infatti all'inizio del 2021 è uscito Later, che ho letto e ve ne ho parlato anche in un wrap-up. Molto molto diverso da Billy Summers e forse più il tipo di romanzo di King che amo. Comunque molto curioso e ripeto edizione veramente molto molto bella, mi piace tantissimo anche al tatto. Se qualcuno di voi l'ha già letto sono molto curioso di sapere che cosa ne avete pensato, quindi fatemi sapere nei commenti. Detto questo direi di passare al prossimo pacco. Tra l'altro, nello scorso Chiatironer dal letto ho rotto le mie forbici. E ora ne ho un paio di cui Tonio Cartonio, Milo Cotogno e Johnny Muchacha non ne sarebbero assolutamente fieri perché non ha la punta arrotonnata. Ma comunque è l'unico strumento in casa che ho per poter tagliare lo scotch, quindi mi tocca usarlo, scusate. Che tra l'altro sono talmente tanto grandi queste forbici che praticamente sono delle mannaie. Ok, questo dovrebbe essere invece un pacco da Oscar Bolt. Adesso vediamo. Sì. E andiamo a vedere che cosa c'è. Se lo tengo tipo così si vede cosa c'è all'interno. Volevo che fosse una sorpresa. Comunque, vabbè, andiamo a vedere. Allora, la prima cosa è Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo. Titolo che per me è impensabile riuscire a dire senza leggerlo in italiano. Anche questa è una nuova pubblicazione da parte di Oscar Bolt. È uscito proprio questa settimana. Si tratta tra l'altro di una ripubblicazione perché Aristotele e Dante è stato già pubblicato in Italia con un'edizione davvero pessima. E questa volta invece Oscar Bolt ci porta ovviamente la copertina originale. Si tratta di uno young adult con tematica LGBT+. Un libro che io ho sempre voluto leggere ma che devo essere sincero non ho mai avuto quell'interesse o quel trasporto da costringermi a leggerlo in inglese. Per cui ho sempre rimandato la lettura di Aristotele e Dante e finalmente Oscar Bolt l'ha portato, l'ha riportato in Italia con questa edizione che fa parte dell'Oscar Fabula. Ovviamente mi piacerebbe leggerlo e sicuramente lo leggerò. Non ha forse la precedenza anche tra le cose che vi farò vedere tra poco, in particolare una. Però comunque sono molto contento e staremo a vedere poi quando lo leggerò cosa ne uscirà fuori. E poi abbiamo giusto appunto quella che sarà la mia prossima lettura. Della mia attuale lettura ne parleremo tra poco. E si tratta della mano sinistra del buio di Ursula Le Guin, che ritorna anche in questo caso in libreria con una nuova traduzione, una nuova edizione che, devo dire, dal vivo mi piace molto molto di più. Perché è molto semplice, come potete vedere, ma devo dire che dal vivo rende davvero tantissimo come copertina. Sta di fatto che, in questo caso, davvero molto più del solito, il contenuto è la cosa che mi interessa davvero. Non ho mai letto niente della Le Guin e questo è un libro che ho in TBR davvero da sempre e finalmente posso leggerlo. Sono estremamente curioso di approcciarmi a questo romanzo. Come vi ho detto, sarà la mia prossima lettura. Sono molto, molto felice di averlo ricevuto. E ora andiamo a vedere l'ultimo libro all'interno di questo pacco, Mexican Gothic, di Silvia Moreno Garzia. Questo con una copertina double face, che, devo dire, sono entrambe bellissime, quindi non so poi quale sceglierò. Questa è una novità, anche in questo caso, che attendevo tantissimo. In verità ho finito recentissimamente Mexican Gothic e ne parleremo poi prossimamente nel wrap-up. Devo dire che non è esattamente il libro che avevo immaginato. È stata sicuramente una bella lettura, ma ci sono delle cose che, ammetto, non mi hanno convinto al 100%. Ci sono diversi aspetti di questo libro che mi sfuggono. In modo particolare il messico e il gotico di cui parlava il libro, perché all'interno non ho trovato esattamente questo. Ci sono sicuramente degli sviluppi interessanti, comunque poi ne parleremo meglio nel wrap-up. Vi faccio vedere l'altra copertina che è altrettanto bella, secondo me. E comunque, rimanendo su questa, io la trovo incredibile. Questa copertina pulp è semplicemente meravigliosa, davvero molto molto bella. Forse rispetto a quella originale, diciamo, perché è quella con cui viene pubblicizzato alla fine, ricalca maggiormente il contenuto del libro. Comunque questa è l'altra e mi piace da morire, però forse preferisco l'altra. Comunque adesso lo lasciamo così e poi vediamo. Comunque questo è l'ultimo libro all'interno del pacco. E quindi, eccoci qua. Detto questo, veniamo a noi. Che cosa sto leggendo? Libri, fumetti, graphic novel, manga, di tutto un po'. Partiamo dalla mia attuale lettura. Il libro che sto leggendo, in verità, ho iniziato ieri sera, sono al 10%, quindi posso dirvi molto poco, però le prime sensazioni. Si tratta di All of Us Villains, che era un libro che stavo aspettando tantissimo. Per ora non è disponibile in italiano. Non so se sarà disponibile, è uscito recentissimamente in America. Si tratta di uno young adult fantasy, che stavo attendendo da ormai quasi un anno, credo, quando fu annunciato. Per farla breve si tratta di un gioco mortale, Steel Anger Games Battle Royale, ambientato in questo contesto più fantasy, molto molto oscuro, fatto di incantesimi, sortilegi, eccetera eccetera, in cui abbiamo queste sette famiglie, che ogni generazione scelgono il loro campione per buttarlo in questa competizione, e alla fine non uscirà vincitore solamente uno, che avrà appunto il privilegio di ottenere il controllo di questa fonte chiamata AIG Magic, ovvero alta magia, una fonte di magia appunto inestimabile, potentissima, che si credeva scomparsa. Sostanzialmente va a raccontare questo. Ho letto molto poco, l'11%, il titolo lascia immaginare appunto questa storia in cui noi leggeremo appunto di protagonisti che dovrebbero essere considerati un po' i nemici cattivi della situazione. Temo profondamente da quello che ho visto e da come già immaginavo comunque ci andrà a raccontare sostanzialmente di personaggi dalla morale grigia, e comunque va benissimo, così è una cosa che io adoro particolarmente quando e se è fatta bene. E il libro è diviso in punti di vista, quindi le due autrici ci permettono di conoscere i vari appunto personaggi delle varie famiglie. Sembrano molto interessanti per ora, ma ripeto, ho letto molto poco, nonostante tutto comunque ieri sera ero particolarmente preso dalla narrazione, ero molto curioso di conoscere mano a mano tutti i personaggi, che per ora devo dire sono, non voglio dire caratterizzati bene perché è ancora troppo presto per poterlo dire, però hanno una loro dimensione, hanno comunque, sono riconoscibili in qualche modo, hanno un loro background, sembra molto interessante, quindi staremo a vedere come andrà poi tutto il resto. Passando invece a fumetti e manga, che cosa sto leggendo? In verità proprio stamattina ho concluso Inuyasha, questa è la copertina Mirko, sì, che finalmente la Star Comics ha ripubblicato con questa nuova edizione. Io non l'ho letto, mai visto Inuyasha, sono diciamo appunto sotto questo punto di vista vergine, ovvero non conosco assolutamente Inuyasha, l'ho sempre sentito dire perché si tratta di un cult, ovviamente conosco appunto personaggi eccetera eccetera, ma effettivamente non mi sono mai approcciato la storia, quindi non posso dire di conoscere tutti gli sviluppi. Ho letto questo primo volume, stavo aspettando tantissimo questa nuova edizione da parte di Star Comics che finalmente è uscita e mi è piaciuto da morire, davvero da morire. Già questo primo volume è molto molto dinamico nella relazione, ci va a presentare i nostri personaggi principali, tra cui ovviamente Inuyasha, e sono molto curioso di vedere che cosa succederà poi, perché ripeto, davvero non conosco assolutamente niente, quindi non fate spoiler di nessun tipo. Mi piace tra l'altro moltissimo l'edizione di Star Comics, ci sono pagine a colori, o meglio, due pagine a colori, tra virgolette. Purtroppo visto che il secondo volume uscirà a gennaio del 2022 e poi la pubblicazione dovrebbe tornare mensile, io non vedevo già l'ora di leggere il secondo e invece mi toccherà aspettare ancora un po'. Però sono molto contento che effettivamente mi abbia preso così tanto e ripeto, molto curioso di vedere il futuro sviluppo della storia. Per quanto riguarda invece graphic novel, ho iniziato, ho letto davvero pochissimo, il secondo volume delle Ragazze del Pillar di Teresa Radici e Stefano Turconi, due tra i miei autori preferiti per quanto riguarda graphic novel e fumetti. Le Ragazze del Pillar, di cui questo appunto, come vi dicevo, è il secondo volume pubblicato da Bao Publishing, sono stati loro a mandarmi la copia di questo volume, quindi li ringrazio profondamente, è lo spin-off di quella che per me è un capolavoro, ovvero il Porto Proibito. Aspetta, vado a prendere gli altri volumi, così ve li mostro perché meritano lo spotlight. Ed eccoli qua. Questo è il Porto Proibito, ovvero l'opera madre, diciamo, un'opera che secondo me tutti dovrebbero leggere. Per me questa è un'opera che ha un valore inestimabile, l'ho amata dalla prima all'ultima pagina, davvero è qualcosa che mi ha lasciato e che mi ha toccato profondamente. Ci sono questi personaggi, questa storia che viene raccontata e che gira intorno a loro, che tocca profondamente diverse corde, almeno le mie la toccate davvero tantissimo, e quindi davvero ho amato ogni singola pagina di questa storia e ve la consiglio caldamente. E appunto dal Porto Proibito nasce poi Le ragazze del Pillar, questo è il primo volume. Si tratta di storie di questo bordello, dove all'interno vivono e lavorano appunto ragazze molto diverse, con storie molto diverse, con caratteri molto diversi. E nel primo, in questo appunto, conoscevamo più da vicino il personaggio di Jun. Avevo amato terribilmente la sua storia e poi i disegni di Turconi sono, secondo me, incredibili, davvero incredibili. Le colorazioni e le ambientazioni sono assolutamente qualcosa di indimenticabile. In questo secondo volume, invece, uscito recentissimamente, conosciamo Tess e quindi viviamo più attentamente la sua storia. Ho letto davvero molto poco, sono sicuro che comunque saprà regalare emozioni incredibili. Come sempre, anche in questo caso, il disegno è sensazionale, cioè riesce davvero ad essere indimenticabile, i personaggi sono espressivi, la colorazione è bellissima, l'atmosfera che creano. Sono davvero un vortice di emozioni e sensazioni indimenticabili. Vi consiglio caldamente tutte le opere di Radice Turconi, però queste forse un po' di più, in modo particolare appunto Il Porto Proibito, che per me è qualcosa di indimenticabile, intoccabile, quindi consigliatissimo. Dalle varie letture passiamo a una sezione diversa di questo chiacchierone da letto, ovvero concentriamoci su serie tv, film, cose che sto vedendo e che ho visto in questo ultimo periodo. Ma, prima di tutto, prima di questo, così, completamente a caso, apriamo una parentesi. Avete visto l'annuncio del cast del live action di One Piece? Perché sono rimasto profondamente sorpreso. Se qualcuno di voi non lo sapesse, Netflix appunto produrrà un live action basato sul manga di Oda, One Piece, manga famosissimo, che anche se forse non avete mai visto l'anime o appunto ho letto il manga, conoscerete anche solo per sentito dire. Io sono ovviamente timoroso. One Piece è una delle mie opere preferite, ci sono estremamente legato e sono timoroso per due motivi. Primo, non amo particolarmente quando l'America va a creare live action remake di prodotti appunto che vengono dal Giappone, comunque asiatici, come in questo caso One Piece, perché per la maggior parte delle volte Dragon Ball o Death Note o non lo so, sono delle trashate epocali che fanno male anche solo a guardarle. Ma va bene. Questo è un discorso. L'altro è un discorso che invece mi preoccupa ancora di più, ovvero, oggettivamente, l'opera di Oda, One Piece, è un'opera difficilmente adattabile con un live action, perché quello di Oda è un mondo estremamente colorato, è un mondo che porta a galla tutti gli eccessi possibili, immaginabili, cioè è un circo praticamente di ambientazioni, di personaggi, c'è una stravaganza davvero incredibile, è davvero difficile, secondo me, portare quello che è One Piece, l'opera di Oda, su appunto qualcosa di reale come una serie tv o un film. E mi preoccupa terribilmente questa cosa, perché uno degli aspetti, secondo me, più belli di One Piece è proprio anche questa sua stravaganza che è caratteristica. non so quanto possa funzionare in una serie tv live action, ma devo dire che sono rimasto estremamente sorpreso e devo dire comunque soddisfatto dalla scelta del cast principale, ovvero hanno annunciato il cast per i nostri cinque protagonisti principali, ovvero Rufi, Zoro, Nami, Aesop e Sanji. Tutti secondo me estremamente nel ruolo, la cosa che mi ha sorpreso di più è vederli parlare. C'è un video di presentazione dove l'attore che è stato scelto per interpretare Rufi è lui. A questa appunto voglia di spaccare proprio qualsiasi cosa, di uscire quasi dallo schermo, che mi è sembrato perfettamente centrato nel personaggio, ma anche esteticamente mi piace molto. Usop è semplicemente perfetto, non credo sarebbe stato possibile scegliere qualcuno migliore di lui, non ricordo il suo nome, perdonatemi. Nami anche mi sembra effettivamente una buona scelta, Zoro per me è perfetto, perfetto. Sanji è un buon Sanji, esteticamente non so quanto mi convinca, però magari con trucco e parrucco poi sarà diverso. Comunque devo dire, le scelte del cast mi hanno particolarmente sorpreso. Poi l'adattamento, ripeto, non so quanto sarà convincente, ma staremo a vedere. Detto questo, così, proprio parentesi chiusa, passiamo ad altro. Passiamo ad Eternals, ragazzi. Il nuovo film della Marvel che insieme al nuovo film di Spider-Man che uscirà a dicembre è il prodotto Marvel che più attendevo tra quegli annunciati anche per il prossimo futuro. Non sto ovviamente a dirvi di cosa parla Eternals, anche perché ad oggi credo che la maggior parte di voi forse l'avranno già visto, quindi sono molto curioso anche di sapere la vostra. Sta di fatto che all'interno il cast era pieno di nomi stellari, partendo da Angelina Jolie, arrivando a Richard Marden, passando per Keith Harrington, i due che si uniscono, tra l'altro è stato catartica la cosa. Prima di uscire in sala il film è stato riempito di recensioni estremamente negative anche per la varia questione della rappresentazione del personaggio apertamente gay che mi sembra incredibile questa cosa, ma ok, lasciamo perdere questo aspetto. Quindi devo dire che le mie aspettative erano davvero minacciate da tutte queste recensioni negative. Non avevo lette, però avevo visto appunto che c'erano state davvero recensioni di critici davvero aspre, negative e mi avevano un po' preoccupato. Io invece sono rimasto felicissimo dalla riuscita di Eternals che credo ad oggi sia sicuramente per tanti aspetti uno dei film migliori della Marvel mai appunto fatti uscire al cinema. È diverso, è qualcosa di nuovo, è qualcosa che secondo me fa respirare alla stessa Marvel una concezione diversa del classico supereroi. Questo gruppo di Eterni a me ha convinto terribilmente. La regia di Chloe Zhao mi ha conquistato, si vede tantissimo alla sua mano. Questi panorami immensi, spogli, questa natura che sovrasta a qualsiasi cosa, che va a scontrarsi con questa CGI ovviamente in alcuni punti anche piuttosto pesante. Quindi ovviamente è un connubio che potrebbe non funzionare ma secondo me comunque sono riusciti a farla funzionare anche piuttosto bene ed è una nota che secondo me ecco contraddistingue anche questo film. Comunque ci sono delle inquadrature secondo me spettacolari. le scene di battaglia secondo me sono alcune tra le più belle mai realizzate. Sono delle coreografie quasi perfette. Non c'è mai qualcosa fuori posto. C'è una coesione perfetta di tutti i combattimenti davvero bellissimi. Ovviamente dall'altra parte ci sono anche delle note negative. Non è un film perfetto secondo me soprattutto nella sua prima parte. Ci sono dei momenti che vanno molto a rilento ma sono giustificati dalla presenza di tanti personaggi che non abbiamo mai conosciuto. Insomma gestire un film con dieci protagonisti tra virgoletti alcuni più alcuni meno però comunque abbiamo dieci nuovi personaggi da dover presentare al pubblico che non sono mai stati fatti vedere ecco è difficile dare una dimensione a tutti questi personaggi rendendoli comunque credibili. Ovvio alcuni personaggi sono meglio riusciti di altri ma sono riconoscibili anche in questo caso hanno delle caratteristiche mi sono piaciuti praticamente tutti alcuni più alcuni meno ma appunto sempre per lo stesso discorso ad alcuni personaggi viene data più attenzione rispetto che ad altri comunque però riescono ad emergere c'è una buona questione alla fine di tutto quanto la trama mi è piaciuta le ripercussioni che questo film avrà sull'universo Marvel sono estremamente interessanti le tematiche sicuramente sono la cosa che danno maggior valore a questo film è un film che tra l'altro una pellicola che racconta di tante culture diverse c'è tanta rappresentazione e questa è una cosa che ho apprezzato sopra ogni cosa davvero anche per la questione del personaggio apertamente gay secondo me è riuscitissima perché non è il punto della questione del personaggio non viene basato tutto su questo ma è una cosa naturale come dovrebbe essere secondo me è davvero perfetto sotto questo punto di vista l'ho adorato bellissimo non vedo l'ora di vedere ovviamente altro su questi personaggi e poi ci sono i due post credit le due scene post credit soprattutto la prima per cui Mirko ha avuto quasi un coccolone per fortuna che mi l'avevo spoilerato perché appunto il giornalista che la proiezione a Roma ha creduto di dover dire al mondo chi fosse presente in questa scena post credit comunque bellissimo davvero adorato è sicuramente diventato uno dei miei film preferiti della Marvel quelle due ore e mezza vi giuro avrei voluto durassero ancora cinque volevo saperne semplicemente di più mi è piaciuto tantissimo per quanto riguarda invece serie tv ammetto sto vedendo praticamente niente se non The Walking Dead è un mese che non vedo altro se non The Walking Dead ho lasciato tutto quanto indietro per The Walking Dead in verità ho visto le prime due puntate della nuova stagione di Lock and Key la seconda io la prima l'avevo particolarmente apprezzata ero molto curioso di vedere questa seconda stagione le prime due puntate devo dire non mi hanno conquistato al cento per cento poi appunto sono stato preso da The Walking Dead e quindi ho continuato con quella scia e ho lasciato Lock and Key che comunque riprenderò comunque Lock and Key molto carino vi consiglio particolarmente i fumetti di Joey Hill che sono estremamente diversi molto più cattivi più violenti rispetto alla serie tv che è stato trasformato più in un drama young adult però molto carino e godibile però i fumetti edito da Salda Press se non sbaglio tutti quanti consigliatissimi The Walking Dead ho una lunga storia con The Walking Dead in verità io ho cominciato The Walking Dead con la messa in onda della seconda stagione quindi parliamo del 2011 ho avuto alti e bassi ho ripreso lasciato e ripreso The Walking Dead per diverso tempo fino a lasciare la barca con l'inizio dell'ottava stagione e non mi interessava semplicemente più vedevo questo minestrone scaldato che semplicemente non mi conquistava e ho lasciato appunto andare tutto quanto poi ho deciso che Mirko non è niente da fare no? Corri comincio The Walking Dead e così ho fatto sono ripartito dalla prima stagione e ad oggi sono a metà dell'ottava The Walking Dead secondo me è una serie tv per tanti aspetti rivoluzionaria ha sicuramente i suoi alti e i suoi bassi la terza stagione credo che ad oggi sia una delle migliori forse il picco più alto insieme a buona parte della quarta di The Walking Dead per me la nona la decima e le puntate che sono uscite della undicesima sono ancora inedite quindi non posso dire niente è effettivamente questa salsa che tende a ripetersi con l'andare avanti delle stagioni però devo dire che questo rewatch mi sta convincendo ancora di più rispetto alla prima visione di The Walking Dead e c'è da dire assolutamente una cosa di The Walking Dead tutto quello che vogliamo ma la cosa che riesce davvero a The Walking Dead è creare questi personaggi che sono milioni ne perdiamo tanti ne arrivano tanti altri ne conosciamo tanti altri ma tutti questi personaggi sono credibili hanno una caratterizzazione secondo me eccezionale tutti quanti hanno qualcosa da dire le loro storie si intrecciano ed è sensazionale questa cosa secondo me cioè gestire una mole così importante di personaggi e farlo così tanto bene per me è davvero la cosa che mi esalta maggiormente sanno quando lasciare andare quel personaggio quando è arrivata l'ora di dirgli addio e sanno quando far entrare nuovi personaggi e secondo me come gestiscono appunto tutto questo è davvero il punto forte di The Walking Dead effettivamente non c'è una vera e propria trama se non questi archi narrativi che si dipanano per tutte le stagioni però ecco i personaggi sono davvero la cosa che funziona davvero ed è la cosa che spinge tantissimo in The Walking Dead quindi niente staremo a vedere adesso come andrà ho sentito cose molto positive su le ultime stagioni in particolare forse la nona mi dicevano o la decima non ricordo vabbè comunque vedremo detto questo io direi che ho parlato anche troppo sono molto curioso di sapere la tua su tutto questo quindi che cosa stai leggendo in questo periodo hai visto Eternals sono molto curioso di sapere la tua opinione assolutamente hai letto alcuni di questi libri manga fumetti che ti ho mostrato di cui abbiamo parlato hai visto The Walking Dead che cosa ne hai pensato di The Walking Key 2 non lo so qualsiasi cosa che cosa ne pensi soprattutto del cast di One Piece questo mi interessa particolarmente quindi detto questo spero che questa nuova puntata di Attack on Earth a letto vi sia piaciuta e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti ragazzi un prossimo video